benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati con i dual roman empires la serie dei due imperi romani anche se sono messi piuttosto male entrambi oggi cercheremo di fare ancora più progressi qui abbiamo ancora una guerra da risolvere e spero di farlo il prima possibile dall'altro lato abbiamo un impero bizantino che se l'è cavata a stento con l'impero ottomano semplicemente perché gli ho fatto dichiarare guerra da tutti ma voglio dire non avevo granche speranze e difficoltà estremo di battere uno stato così tanto potente il prossimo obiettivo sicuramente è cipro o comunque ramazan questo regno qua si può comunque fare qualcosa in entrambi gli imperi per ora però puntiamo a far pace con questi disgraziati qua vediamo accettano la pace non ancora devo insistere mentre ci prendiamo un po di turni di tregua che male non fanno provo a richiedergli nuovamente la pace non vuole arrivare questa pace quindi mi conviene ritentare l'assalto ritentare l'assalto e colpire qua si attacchiamo setif qua sinceramente dovrei un attimino anche sistemare la situazione nel frattempo sono un po purtroppo raffreddato meno male non si leva niente voglio che sappiate che sto male o comunque che non sto al meglio ecco reclutiamo un po di truppe qua e vediamo di lanciare un'offensiva prossimo turno qua ovviamente dobbiamo aspettare siamo pronti a lanciare l'offensiva che arriverà al prossimo turno abbiamo detto mandiamo le truppe a cipro niente l'ennesimo assalto è andato male vediamo se accettano la pace niente la pace non vuole arrivare contro questi qua e sì dai dobbiamo comunque provarci abbiamo dei bitoni piuttosto perché se li abbiamo sì li abbiamo per quattro turni li ripaghiamo tutti e aspettiamo un altro turno così come si dice se c'è da sistemare sistemiamo ripaghiamo i debiti proviamo di nuovo offrire la pace alla dinastia fside finalmente è arrivata ok posso concentrare tutte le mie forze sulla presa dell'italia a partire da lucca qua ci siamo sono tornati i soldi e attacchiamo cipro vediamo come andrà l'offensiva credo bene non è vero e qua aspettiamo ancora aspettiamo un po di turni perché ci servono monete quindi il risparmio un po di attesa noto che cipro stava per attaccarmi quindi occorre vendicarsi qua aspettiamo un altro turno e torniamo ad attaccare cipro ora guardate la bellezza della dualità abbiamo i soldi abbiamo parma possiamo già preparare l'attacco a lucca dichiarare guerra al piccolo principato e aspettare un turno ora attacchiamo noi e facciamo cadere anche cipro nel mentre qua dobbiamo preparare un po di backup qua possiamo chiedergli la pace sciogliere l'esercito e abbiamo risolto il problema adesso possiamo andare a riprenderci il nostro regno qua dobbiamo assimilare un attimo e ora terminiamo l'esistenza di lucca a tutti gli effetti mentre qua direi che o attacchiamo l'impero ottomano ma è ancora molto rischioso o proviamo a prendere il regno di ramazan da due province vi ripeto la parola d'ordine aspettare nell'attesa però lucca è presa andando avanti andando avanti possiamo sia tornare al nostro stato pontificio e assimilare un po e un po qua la parola chiave aspettare il momento giusto dobbiamo ridurre un po la mappa così non non crea problemi perfetto l'impero romano è quasi pronto all'azione l'impero bizantino è nettamente pronto all'azione quindi direi di reclutare da ad atene o eracleon da atene da atene mettiamo 4000 truppe ad atene e mille qua qua ovviamente aspettiamo ancora mandiamo tutte le truppe ad atene pronte all'uso e le mandiamo nel confine di mare di qua con l'impero romano v'ho detto aspettiamo siamo arrivati qua due province questi anno gliele possiamo prendere senza problema infatti detto fatto il regno biprovincia è caduto qua sembrano esserci guerre tra l'ungheria e l'austria e non è una buona notizia per noi considerato che li dobbiamo attaccare separatamente entrambi qua abbassiamo un attimino qua alziamo perché avremo doppio esercito pace fatta e ci siamo presi un altro piccolo regno siamo pronti ad attaccare manto va sì sì dai voglio farlo con entrambi gli eserciti perché non voglio perdere tempo qua sciogliamo e qua assimiliamo vediamo quanto costa assimilare neanche troppo devo dire continuiamo però perché fa sempre bene farlo lo stato pontificio risulta vittorioso perfetto possiamo assimilare anche manto va qua c'è da attendere adesso la prossima mossa logica sembra veramente attaccare gli ottomani sì ma occorre prepararsi psicologicamente sciogliamo l'esercito e ci prepariamo anche a prendere firenze anche se vi ripeto non è minimamente il momento di prendere firenze quindi attendiamo con entrambi gli imperi nessuno ci fa guerra meglio così la situazione che abbiamo in questo momento 5.000 truppe aumentano di 1.000 a turno venezia ci ha dichiarato guerra attenzione e venezia è molto ben difesa sapete che vi dico si cambiano le priorità a parte che ora che ci penso c'è una cosa molto divertente guardate intanto doppio e triplo debitone per difenderci dal rischio invasione e si è il massimo che posso fare questo venezia controlla dei territori che servono anche mi pare all'impero bizantino quindi posso volendo assurdamente preparare delle truppe ad atene e mandarle contro effettivamente qua ora siamo di nuovo sotto attacco andiamo avanti di debitoni tanti debitoni non sono una mossa lame pensandoci cioè si ci danno soldi ma ci sono interessi da ripagare lo stato comunque ne soffre perché comunque è un problema ma ora immaginando che siano due partite diverse cosa impedisce all'impero bizantino effettivamente di attaccare venezia per i suoi fini quindi mettere le truppe qua con quest'impero tanto dobbiamo aspettare con l'impero romano d'occidente quello d'oriente può attaccare venezia e ora venezia è contemporaneamente sotto attacco da entrambi gli imperi romani io manderei giusto 500 truppe qua e 2400 qua vediamo effettivamente ha avuto senso per prendere spalato ora dobbiamo resistere magari avanzare leggermente mandiamo altre 500 truppe qua e proviamo anche l'assalto di pula venezia è ancora ben difesa purtroppo non conviene attaccare è controproducente torniamo all'impero bizantino e facciamo la nostra mossa attacchiamo durazzo con tutte le nostre forze e vediamo niente durazzo non vuol cadere ciò significa che con l'impero bizantino bizantino dobbiamo riprovare a contraattaccare purtroppo loro sono più forti o comunque più si stanno distruggendo ecco noi abbiamo pur sempre avignone ma da avignone capite che la partita è più o meno persa credo che dovremmo fare una cosa del genere anche perché se no siamo fregati le truppe di qua le mando tutte a durazzo sperando bastino le immagino abbiano accettato le condizioni quindi buono così adesso sono con l'impero romano e devo difendermi con 123 truppe diciamo che la situazione è molto più critica di quanto vi immaginiate però sapete cosa non è critica come situazione che paradossalmente possiamo sì sia prendere pula che aiutare si ok è caduta a roma ma la cosa non mi interessa perché adesso possiamo sia prendere pula provare a prendere spalato e provare anche a riprendere rieca anche se non è di mia competenza bene la situazione è così critica che anche il regno di napoli ci dovrà aiutare no regno di napoli dichiara guerra a venezia perfetto ora io qua con venezia sinceramente con l'impero bizantino una pace ce la farei niente sì adesso dobbiamo aspettare con entrambi gli stati ti ripeto io voglio soltanto durazzo ti ripeto io voglio soltanto durazzo non voglio nient'altro che hanno accettato la pace adesso per l'impero bizantino le cose si mettono un po meglio un po peggio per noi però noi impero romano dobbiamo aspettare pertanto possiamo già iniziare a pensare alle prossime mosse con bisanzio e a difenderci dal dall'attacco di venezia milano ma si dai milano sai che ti dico divertitevi è il momento di scannarvi tra di voi nel mentre dobbiamo attendere la fine di questa guerra con venezia che finalmente sta venendo invasa da tutti e rimane solo una provincia dovrebbero averci liberato sì torniamo in mano a nostro stato e facciamo pace vediamo se è funzionato sì no venezia ci odia ancora venezia ma non per male ma avete una sola provincia che cosa provate ancora venezia ne ha tre adesso vabbè mi dispiace tanto per loro ma bisanzio è pronta alla guerra 4500 truppe qua 4500 truppe qua arriva il momento in cui rischiare d'obbligo e allora impero ottomano è il momento di attaccare per quanto possibile voglio guadagnarci anch'io da questa guerra purtroppo i possedimenti di durazzo vengono momentaneamente perduti nel mentre una pace con venezia sembra alquanto difficile anche sulla linea teorica mentre quale nostre truppe d'élite avanzano la pace è stata fatta siamo punte a capo e siamo anche messi male a livello di truppe vedete in un momento in cui un attacca l'altro aspetta questa è la bellezza dell'impero romano completo che però combatte in parti da due si all'inizio questa serie può sembrarvi strana ma poi vi ci abituate ve lo giuro comunque non abbiamo granché da offrire qua oltre a riprenderci i nostri territori un impero è in consolidamento l'altro in ripresa qua non c'è chi altro attaccare sinceramente io offrirei una pace all'impero ottomano prendendomi i territori di confine neanche tutti peraltro perché non posso prenderli così hanno accettato la pace i debitoni stanno venendo ripagati tutti tranne due che ripago adesso per avere il massimo della potenza bellica adesso siamo pronti con entrambi gli imperi per attaccare prossimo obiettivo firenze per l'impero romano d'occidente e bu candar no ci hanno dichiarato guerra in due i dulcaridi i dulca i dulcadiridi e la georgia la georgia non potrà far nulla ma i dulcadiridi possono effettivamente far qualcosa ovvio che si la cosa buona è che noi ci possiamo difendere mettiamo truppa al confine e aspettiamo vediamo se i dulcadiridi si ammazzano da soli con le loro stesse mani no credo servirà un piccolo aiutino ecco che vi ripeto non è un aiuto è un indebitamento con la banca centrale che sicuramente non apprezza andiamo a mettere 1900 truppe qua e nel giro di qualche turno saremo pronti a contrattaccare guardate con coscrizione addirittura così li prendo di sorpresa qua recuperiamo la nostra potenza e attacchiamo i dulcadiridi in modo tale vi ripeto da annichilirli definitivamente così si imparano a farci guerra la georgia che sinceramente molto fuori portata non ci interessa siamo pronti ad attaccare genova ho detto firenze sì e allora facciamo firenze visto che insistete mi pare brutto dirvi di no 100% dell'impero dei dulcadiridi la georgia le consiglio veramente di stare ferma prima che si ammazzano con le loro stesse mani direi che siamo pronti all'azione con queste truppe volendo potrei attaccare qualcuno ma chi non ha senso per me fare fesserie siamo in pace per 34 turni con l'impero ottomano sicuramente il bellicato di caramanna è troppo forte scusate ma se questi sono quinti e noi siamo quindicesimi stiamo recuperando un sacco in realtà quindi chapeau però mi sento ancora di voler combattere un po quindi sciogliamo questi eserciti e ora attacchiamo l'albania dai ah vero ma noi abbiamo 3000 truppe là ecco perché il paese non ingrana si spiega tutto dai concludiamo il video così milano potrebbe essere un problema sì che potrebbe essere un problema ma noi saremo veloci e prenderemo anche milano in un colpo mettiamo truppe in attesa e vediamo qua abbiamo detto che attacchiamo l'albania come ultimo stato del giorno dai concludiamo con una biguerra che è sempre quello che ci vuole purtroppo la biguerra potrebbe andare peggio del previsto perciò facciamo meglio a attaccare con tutte le nostre forze i territori di firenze e qua terminiamo l'attacco così mandiamo molte più truppe qua che là niente niente a quanto pare lo stato pontificio ha particolari difficoltà a essere tranquilli questo inizio un po turbolento ci servirà state sereniche servirà vabbè ragazzi allora concludo salvando dall'altra parte che posso essere più tranquillo torno a richiedere dei bitoni che stanno rallentando la nostra partita all'inverosimile concludiamo con la presa totale dell'albania e la pace alla giorgia andando di qua salveremo il gioco ma dobbiamo prima fare una cosa ovviamente truppe a bologna ci sono truppe qua ci sono truppe al massimo perfetto devo fare un turno di tregua qua uno e due e si salva il gioco perfetto ragazzi così evitiamo di perdere i progressi e va bene dai la situazione è tragica visto che lo stato pontificio si deve difendere da milano e firenze l'impero invece romano d'oriente sta un attimino ampliando i suoi possedimenti ma sarà una strada in salita sicuramente ci vorrà molto più impegno di così per ora ci fermiamo qua spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando commentate iscrivetevi attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tanti tantissimi piace passate dal server discord e dal canale twitch detto ciò ci siamo davvero detti tutto noi ci vediamo con un prossimo video